Con l'arrivo del DJI Air 2S è lecito chiedersi, l'ho fatto anch'io, se prendere questo o se rimanere per il top di gamma assoluto sul Mavic 2 Pro E effettivamente in questo video andiamo a vedere un confronto, soprattutto le caratteristiche tecniche perché qui abbiamo più malleabilità Un sensore comunque di ottima qualità e qui andiamo meglio al lato software, ma lo approfondiamo bene Vedremo delle riprese anche molto simili con esposizioni similari per vedere quali sono le differenze Detto questo, io in descrizione sempre vi lascio i link e per qualsiasi domanda qui sotto nei commenti e anche su Instagram vediamo giorno per giorno anche confronti di questo tipo Iniziamo! Eccoci davanti ai due droni, simili per molti versi, differenti per altri, adesso andremo ad analizzarli pian piano Partiamo dal Air 2S, qui abbiamo un Mavic 2 Pro, visibile grazie al sensore da un pollice che troviamo nella parte superiore Questo è anche con Asserblad, lo vediamo, è una qualità migliore dal punto di vista fotografico, lo approfondiamo da un attimo Dunque, l'Air 2S come abbiamo visto è più compatto, questo si traduce in maggiore portatilità e può servire anche per portarlo tutti i giorni magari O per avere un minore ingombro quando viaggiamo Nel kit combo abbiamo una borsa compatta che ci permette di portare tre batterie, come anche per il Mavic 2 Pro Qui parliamo di un costo di circa 1300€ in versione combo Mentre da quest'altra parte dipende un po' dai prezzi di mercato e lascio le offerte come sempre in descrizione Ma si compra il Mavic 2 Pro che andrebbe a listino a 1500€ e circa 350€ per la versione combo Oggi i prezzi sono effettivamente inferiori, per questo vi dico di controllare le offerte in descrizione come sempre Di conseguenza la spesa rimane comunque più bassa sull'Air 2S Ma se cerchiamo il top della qualità è meglio ripiegare sul Pro Dimensioni più compatte come dicevo e di fatto sensori su ogni lato tranne che per la parte laterale Di fatto questa è l'unica differenza sui sensori tra questi due droni ma viene compensata dalla gestione software Perché il DJI Air 2S può effettivamente andare bene ad evitare gli ostacoli, a gestire l'active track Evitare automaticamente eventuali pericoli perché ha un software più affinato La parte di programmazione e intelligenza artificiale del drone gli permette di evitare gli ostacoli Se gli diamo l'input giusto dall'applicazione, dal radiocomando rispetto al Mavic 2 Pro Nonostante manchino appunto i sensori laterali Detto questo per quanto riguarda l'autonomia siamo sullo stesso livello Batterie che qui, le abbiamo visto anche nella review, lascio nelle schede Effettivamente ci porta a 31 minuti di volo in entrambi i casi E modulo di trasmissione migliorato Grazie anche al nuovo radiocomando che andremo adesso a analizzare e fare un confronto rispetto a quello precedente Abbiamo 12 km di autonomia teorica Quella pratica sarà effettivamente diversa a seconda dello scenario E il Mavic 2 Pro si posiziona sui 10 km E avrà un feed in full HD direttamente sul nostro radiocomando Vedendo il corpo del drone sono praticamente molto simili come abbiamo visto Anche nella parte inferiore abbiamo la luce in entrambi i casi Singola sull'Air 2S, doppia sul Mavic 2 Pro E questo permette anche di avere illuminazione quando abbiamo scarsa luminosità In fase di atterraggio se voliamo anche in notturna Di fatto il peso maggiore, la velocità massima che è uguale ad entrambi i casi Permette al drone Mavic 2 Pro di avere un po' di stabilità in più Per quanto riguarda le condizioni avverse Quindi resistenza al vento Ma anche da questa parte siamo comunque ben equipaggiati Per quanto riguarda poi Quelli che sono i sensori Vediamo sono presenti anche nella parte laterale come vi ho detto poco fa E le differenze le possiamo andare a vedere lato software sull'applicazione Ma andando a vedere quello che riguarda il sensore Lo troviamo in entrambi i casi da un pollice come vi ho detto poco fa Qui è da 20 megapixel ed è in grado di registrare video fino a 4K 60 fotogrammi al secondo Oppure 5,4K quindi superiore al 4K a 30 fotogrammi al secondo Utile per un crop Da quest'altra parte invece il discorso è diverso Perché ci fermiamo tra virgolette al 4K 60 fotogrammi al secondo È una fotocamera più elaborata fatta in collaborazione con Hasselblad Come stiamo vedendo In entrambi i casi siamo sui 20 megapixel di risoluzione Ma attenzione perché da questo lato abbiamo uno stop di luminosità in più sull'HDR 14 stop di gamma dinamica Mentre da quest'altra parte ci fermiamo a 12,4 stop Significa in entrambi i casi avere una ottima gamma dinamica Abbiamo un dato superiore sul Mavic 2 Pro Semplicemente Ragioniamo poi sui radiocomandi Andiamo ora ad approfondire quello che riguarda il radiocomando Ho già inserito lo smartphone sul radiocomando dell'Air 2S E qui abbiamo quello del Mavic 2 Pro Adesso ci arriviamo poi collegheremo lo smartphone anche lì Dunque come vediamo i due radiocomandi sono diversi È più comodo il modello più aggiornato anche perché abbiamo un range superiore 12 km teorici contro 10 km teorici del Mavic 2 Pro E lo smartphone in posizione superiore rispetto al radiocomando è più comodo Bisogna dirlo per vedere in tempo reale il feed video del drone È molto comodo anche perché tra l'altro è presente questa molla Che posso gestire quindi in modo molto semplice Andandola a estrarre quando serve E quindi vado poi a inserire il telefono per la visualizzazione È estremamente semplice da usare Gestibile per quanto riguarda la modalità normale sport e cine smooth E davanti abbiamo il pulsante per cambiare modalità Il pulsante posteriore per avviare il video Oppure fare una fotografia E poi muovere il gimbal Leggermente diverso l'altro radiocomando Adesso ci arriviamo Citiamo solo che sul Air 2S abbiamo l'applicazione DJI Fly Che è meno completa rispetto a DJI Go 4 L'app che effettivamente è quella che ci permette di avere più controlli In assoluto tra tutti i drone DJI DJI Fly è migliorata Però comunque mancano ancora alcune cose E alcuni settaggi rispetto a DJI Go 4 Diciamo che è presente tutto quello che riguarda il settaggio Semplice, immediato E non si va troppo nel complesso, nell'avanzato Nelle impostazioni avanzate Ma diciamola così E possiamo comunque controllare in modo semplice tutto Quindi anche chi è alle prime armi può tranquillamente gestire questo drone Passiamo ora all'altro radiocomando Per quanto riguarda il radiocomando del DJI Mavic 2 Pro Abbiamo più opzioni Abbiamo un controllo migliore Una grafica molto più snella dal mio punto di vista Ma con tante informazioni in più allo stesso modo Quindi riferimento all'autonomia qui sotto Il riferimento al voltaggio della batteria La batteria, il segnale I satelliti Non so se riesco a farvelo vedere in modo netto Ma comunque in modo semplice Tutto quello che riguarda la gestione interna del drone Dalle impostazioni di scatto Con tutto quanto sotto mano Secondo me anche in modo migliore Rispetto alla DJI Fly Quindi sull'applicazione rimango comunque sulla DJI Go 4 Per farvi vedere poi tra l'altro che abbiamo più sotto menu E tante impostazioni in più Andrebbero analizzate una ad una Ma molto semplicemente E' tutto quanto gestito in forma più immediata E effettivamente anche più calibrata Rispetto a DJI Fly Che è un po' più spoglia per così dire Per questo motivo io comunque premio L'applicazione della DJI Mavic 2 Pro E molto semplicemente quindi abbiamo due droni Che hanno dalla loro Alcune peculiarità e altre pecche Per così dire Praticamente si compensano l'uno con l'altro Differenza sostanziale inoltre E qui abbiamo a disposizione il display Con tutte le informazioni relative alla telemetria E anche se non abbiamo a disposizione l'applicazione Avere tutti i dati sott'occhio E' sicuramente un valore aggiunto Per quanto riguarda i controlli Abbiamo pulsanti separati per gestione video E scatto dal punto di vista della fotocamera E due gli ere nella parte posteriore Per muovere il gimbal in un caso E per gestire l'esposizione dall'altro Poi con i pulsanti di ripresa video Ad esempio posso anche cambiare modalità Se sono in modalità foto Premo sul pulsante relativo al video E passo direttamente in modalità video appunto Quindi il resto è abbastanza similare Abbiamo il joystick per muoverci E un radiocomento più completo Per quanto perde qualcosina Al punto di vista del segnale Che però rimane comunque ottimo In definitiva dunque Quale dei due andare a prendere? Beh dipende dalle nostre necessità Come sempre Se abbiamo un budget più risicato Possiamo andare sul DJI Air 2S Che comunque porta con sé Una miglioria dal punto di vista software Nella possibilità di evitare gli ostacoli Nonostante abbia alcuni sensori In meno quelli laterali come abbiamo visto La qualità comunque c'è Abbiamo meno possibilità di personalizzazione E la differenza ve la dico appunto Sul Mavic 2 Pro Relativamente al controllo Dal punto di vista professionale Perché per le riprese video Ad esempio possiamo gestire La ripresa 10 bit Profilo colore HLG Abbiamo più impostazioni Per così dire Dal punto di vista professionale Se cerchiamo delle riprese Con forte personalizzazione Tanta profondità E allo stesso tempo Chiaramente tanta qualità Beh dobbiamo andare sul Mavic 2 Pro Che rimane Comunque anche con il controllo del diaframma Il drone è più completo Dal punto di vista professionale Compatto Rimanendo sulla fascia consumer Attualmente disponibile In entrambi i casi Non si fa in una scelta sbagliata Anzi si porta a casa Un drone davvero ottimo Per ogni tipo di ripresa Se vogliamo lavorare Poi quindi fare post produzione Continua sui nostri video Possiamo andare tranquillamente Sul Mavic 2 Pro Se il budget non lo permette Tranquillamente ripiegheremo Per così dire Sull'Air 2S Mantenendo comunque Un drone di alta qualità Io spero che questo video Vi sia piaciuto appunto E vi è solito lasciare un like qui sotto Iscrivetevi al canale Per non perdere i prossimi video E per qualsiasi domanda Come sempre ci possiamo sentire Qui sotto nei commenti Oppure direttamente su Instagram Sul profilo Che vi lascio in descrizione Per seguire anche Tutti i nuovi contenuti Che arriveranno sul canale A me non resta come sempre Che salutarvi Ringraziarvi per aver seguito Anche questo video Un saluto a tutti Quindi E al prossimo video